Piccolo messaggio prima di iniziare, fino a lunedì 27 ci sono gli sconti su 128 Academy in occasione del Black Friday con tutti quanti i corsi in sconto al prezzo più basso di sempre. Quindi sia per 100% Rekordbox che per DNA DJ potete accedere al prezzo migliore dell'anno, l'unico periodo dell'anno in cui facciamo sconti. Qui sotto trovate il link e per farvi un'idea iniziamo con il video. Ok, ipotizziamo di aver acquistato una FLX4 di Pioneer DJ. Una volta che ci arriva, come facciamo ad utilizzarla, specialmente se è la nostra prima console? Perché in confezione abbiamo soltanto questo cavetto e appunto la console. In questo video vediamo proprio questo, come utilizzare la console, attivarla, configurarla per il vostro primo utilizzo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Federico, parlo di DJ qua sul mio canale YouTube, faccio dei video come questi, dei tutorial. Quindi se siete interessati ad altri contenuti di questo genere vi consiglio di iscrivervi qui sotto. Oggi cosa facciamo? Oggi andiamo a vedere una prima configurazione di una FLX4 di Pioneer DJ. Per quale motivo? Perché su prodotti del genere ho sempre fatto delle recensioni dicendo qual era il migliore secondo me, quali erano i pregi di uno e i pregi dell'altro. Ma non ho mai portato un tutorial dove da zero, attualmente perché abbiamo soltanto appunto il cavo della confezione e la console, facevo vedere come si configurava questo prodotto. Perché dava un po' per scontato insomma qual era il procedimento per farlo, ma probabilmente non lo è. Se è il vostro primo controller, la prima esperienza insomma con una console da DJ, probabilmente non sapete come si connette al computer, tablet e quello che è. Quindi in questo video vediamo proprio questo, quindi questo è un tutorial molto molto semplice, che per molti potrebbe essere scontato, che però se questa appunto è la vostra prima console, invece è il video che fa il caso vostro. Quindi senza perdere altro tempo iniziamo subito. Innanzitutto cosa ci arriva con la FLX4 di Pioneer DJ? Ci arriva il controller, come possiamo vedere, e questo cavo qua. Questo cavo da entrambi i lati USB-C. Ora, nel video di oggi facciamo una configurazione completa, quindi con tutto tutto quanto. Cos'è che ci serve per fare una configurazione completa? Beh, allora, innanzitutto ci serve una cuffia, ok? Quindi io qua ho questa cuffia di IAI, nel mio caso, che andremo a collegare. Ci servirà poi un cavo RCA per collegare la console alle casse, questo. Ci servirà poi il computer, per quale motivo? Perché andremo a vedere la configurazione con, in primis, i computer. Ci servirà poi, ovviamente opzionale, l'iPad. Io andrò a configurare sia col computer che con l'iPad per far vedere i due casi d'uso. Ci servirà poi l'alimentatore dell'iPad, quindi un cavo, nel mio caso l'iPad è Lightning, quindi un cavo USB-C Lightning. E dall'altra parte il trasformatore USB-C. E ultima cosa, per farvi vedere, insomma, un caso d'uso, ho anche questa piccola cassa di Hercules RCA. Molto semplice, quindi questa è la lista di cose che ho qui con me, che prevede la connessione in tutti i modi possibili di questa console. Ovviamente se la utilizzerete solo con il computer, il tablet non sarà necessario e viceversa. Quindi partiamo in primis con le connessioni. Prima connessione, possiamo collegare, ad esempio, la cuffia. Quindi questa è la nostra cuffia. La nostra FLX4 è dotata soltanto di un'uscita per la nostra cuffia, con un jack da 3,5, quindi quello piccolo. Quindi io che ho, nel mio caso, la cuffia con l'attacco da 6,3, vado a svitare l'adattatore più grande per collegare la cuffia. Dove si collega vi faccio subito vedere. Questa qua è la console, qui abbiamo il nostro attacco appunto per la cuffia, come vi dicevo, e in questo modo abbiamo collegato innanzitutto le nostre cuffie. Giriamo la console e passiamo al secondo step, ovvero quello di connettere le nostre casse. Nel mio caso ho questa cassa di Hercules qua, che vi faccio subito vedere. Eccola qua. Come vedete abbiamo un input in RCA, left and right, quindi perfetto insomma, visto che la nostra console si connette in RCA, ci basterà un cavo RCA, RCA. Quindi andiamo subito a prendere il cavo che abbiamo usato prima, tipo questo, e andiamo a collegarlo alla nostra cassa. In questo modo, come vedete, ho collegato il cavo RCA da una parte, dall'altra parte avrò un altro RCA che andremo a collegare alla console. In particolare, come vedete, nella console qua ho l'uscita master, quella principale, dove dovrò collegare questi due connettori. Andiamo quindi a collegarli. Perfetto in questo modo, quindi adesso da una parte ho collegato i cavi e dall'altra parte, anche qua, sono stati collegati. Molto semplice. Ora andiamo a rimettere la console provvisoriamente a posto. Ora, per concludere le nostre connessioni, dobbiamo capire come vogliamo utilizzare la console. La FLX4 è un controller, quindi funziona semplicemente attaccata a un dispositivo, come un computer, o un tablet, o uno smartphone. Non funziona autonomamente con un chiavetto USB, scheda SD, eccetera. Quindi, innanzitutto, dobbiamo scegliere che dispositivo utilizzare. Quindi, vogliamo utilizzare il computer, vogliamo utilizzare il tablet, perché in base al dispositivo che vogliamo utilizzare, la connessione tra i dispositivi cambia. Noi in questo video vediamo tutte le connessioni, quindi primo step, proviamo a vedere come collegarla con il computer. In primis, utilizziamo il cavo fornito in confezione, USB-C, USB-C. Io la andrò a collegare al mio Mac, che ha già connessione USB-C, altrimenti, insomma, dovrete trovare un modo per collegarla al vostro computer con un'altra presa USB. Su quale porta dobbiamo collegarla? Non è molto difficile, abbiamo soltanto due porte USB-C, una per l'alimentazione, con il simbolo della spina, e una, invece, con il simbolo del computer tablet, per indicarci che, per collegarla al computer, dobbiamo usare quella porta là. Quindi, andiamo a collegarla. Ok, nella console abbiamo fatto, l'altra parte del cavo la colleghiamo al computer. Ora, altra scelta importante. Che programma vogliamo utilizzare nel nostro computer o nel nostro tablet, in questo caso nel computer? Questa FLX4 nasce nativamente, diciamo, per essere utilizzata con due programmi. Uno è Recordbox, come possiamo vedere qua sulla console, e l'altro è Serato. Questi probabilmente sono i due software più utilizzati, quindi non sbagliate con nessuno dei due. È importante, però, la scelta perché, se scegliete Recordbox, avrete tutte quante le funzioni, in pratica, per mixare, gratuite, visto che Recordbox è un programma di Pioneer, e quindi, diciamo, la maggior parte, se non tutte le funzioni presenti nel programma, potrete utilizzarle senza pagare un extra. Con Serato, invece, avete la versione Lite, quindi quella con molte, molto meno funzioni rispetto alla versione Pro, che sblocca, invece, tutto quanto quello che offre Serato. Quindi, attenzione che, se scegliete Recordbox, avrete tutte le funzioni per mixare, se scegliete Serato, avrete parte delle funzioni. Diciamo che, per iniziare, vanno bene entrambi, anche Serato in versione Lite, non è, diciamo, un grosso problema. Ovviamente, poi, potrete utilizzarla anche con altri software, di per sé è un controller MIDI, quindi basterà mappare via MIDI qualsiasi altro programma, tipo Tractor, Virtual DJ, eccetera. Ora, andiamo al computer. Siamo qua su internet per andare a scaricare i due software. Andiamo, ad esempio, a scaricare Recordbox per primo, quindi cerchiamo Recordbox su Google, andiamo sul sito di recordbox.com. Perfetto, eccoci qua, andiamo sulla sezione di Download, e da qui, andando giù, accettando il contratto, possiamo scaricare il software e installarlo. Non vi faccio vedere l'installazione perché dipende dal vostro sistema operativo, anche. Andiamo a vedere, invece, per Serato, quindi cerchiamo semplicemente Serato. Viene, ovviamente, come primo risultato, Serato.com. Qua siamo sul sito, andiamo sui prodotti, andiamo su Serato DJ Lite e facciamo Download. Eccoci qua, da qui, semplicemente, scacceremo Download e potremo scaricare, anche in questo caso, Serato DJ Lite. Io, nel mio caso, non installerò né uno né l'altro perché li ho già installati nel computer. Andiamo quindi ad aprire i programmi che abbiamo scaricato. Partiamo con Recordbox. Mi raccomando, se avete già scaricato Recordbox in precedenza all'uscita della FLX4, dovrete aggiornare Recordbox perché la FLX4 sarà compatibile soltanto da una certa versione di Recordbox in poi. Ecco qua, aperto a Recordbox. Ci viene fuori questa finestra di tutorial. Non è detto che vi venga fuori, ma non è fondamentale. Ci fa vedere qua, insomma, il tutorial per il setup, ad esempio, dove ci spiega come si fa il setup della console. Nel nostro caso possiamo anche chiuderla. Andiamo quindi nelle impostazioni di Recordbox qua in alto a destra. Andiamo nella sezione Audio. Perfetto. E come vediamo è stato settato automaticamente l'audio del DJI FLX4. Fate attenzione, insomma, che non sia settato l'audio degli altoparlanti, altrimenti non uscirà l'audio dalla scheda audio della console, quindi dalle casse, ma uscirà dall'audio delle casse del computer. Quindi questo e niente di per sé la console è pronta per funzionare. Io posso selezionare una playlist, ad esempio questa, come vedete così dalla console posso girare la mia collezione, aprire qua, caricare una traccia nel deck, riprodurla e niente. La console è pronta per lavorare, quindi niente di complesso su Recordbox. Se volete sapere di più su Recordbox, su come poi si utilizza effettivamente il programma, volete una guida veramente completa a riguardo, vi bastere andare su 128academy.com, trovate il mio videocorso 100% Recordbox, dove vi spiego non soltanto queste cose qua che ho appena spiegato nel video, ma spiego veramente come si impara tutto quanto quello che offre questo programma di Pioneer. Corso anche in sconto in occasione del Black Friday. Altre cose importanti da dire, potrebbe cambiare il procedimento tra Mac e Windows. Io vi ho mostrato su Mac, su Windows potrebbe essere chiesto di installare qualche driver aggiuntivo, anche se non utilizzate per forza la FLX4, però di per sé nel 2023 non è richiesto niente di particolare da installare tramite internet, eccetera, quantomeno con Recordbox e Serato. Questo quindi era il collegamento con il computer, con Recordbox e Serato. Andiamo a vedere adesso come utilizzare questa FLX4 con il nostro iPad. Non parlerò della connessione Bluetooth, parlerò della connessione cablata, ma si può utilizzare anche la connessione tramite Bluetooth. Diciamo che per affidabilità, se possibile, è meglio cablare la console. Quindi andiamo a scollegarla dal nostro computer. La connettività in questo caso cambia. Per quale motivo? Perché il cavo che avevamo utilizzato, quello presente in confezione, per collegarla al computer, sulla porta appunto computer tablet, lo togliamo da questa porta e lo andiamo ad utilizzare per l'alimentazione, appunto perché il mio tablet funziona tramite lightning e quindi non posso usare questo cavo qua. Quindi andiamo a scollegarlo e andiamo a collegare sull'altra porta di alimentazione. Perfetto. Questa porta qua per l'alimentazione, andiamo a prendere l'altra estremità, utilizziamo il nostro alimentatore per l'iPad e andiamo a collegarlo alla corrente. Perfetto, la console si è accesa, prendo il mio iPad, ecco qua, e vado a collegare tramite l'altra porta USB-C rimasta, quella di prima per connettere i dati, vado a collegare il cavo, quello insomma, originale di Apple. Andiamo a collegarla adesso all'iPad. Perfetto, come vediamo l'iPad si sta anche caricando, cosa fondamentale per noi, visto che lo stiamo utilizzando con la console e non abbiamo altri modi per caricarlo se si dovesse scaricare durante il set. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo sull'App Store e andiamo a scaricare Recordbox per iPad, app che non è uscita neanche troppo tempo fa. Quindi cerchiamo qua Recordbox, ecco qua. Questa qua è l'app di Recordbox che andiamo a scaricare, e l'avevo già scaricata in precedenza. Piccola nota importante, adesso andremo ad utilizzare l'iPad con Recordbox per utilizzare l'FLX4, che è l'app, insomma, più sensata, visto che è sempre di Pioneer. Ma in realtà c'è un'alternativa anche molto valida, che prima dell'uscita dell'FLX4 e quindi anche della parte mix sull'app di Recordbox, si utilizzava DJ di Algoridim. Andiamo qui giù sulla sezione dei nostri dispositivi e come possiamo vedere è presente FLX4. Quindi se vogliamo in alternativa con iOS, qua abbiamo Android e anche con Android, possiamo utilizzare anche DJ se non ci piace Recordbox per l'iPad. Comunque, abbiamo scaricato l'app, andiamo subito ad aprirla. Perfetto, diamo l'ok per accedere al microfono. Come vedete viene riconosciuta l'FLX4. Diamo l'ok, il consenso a tutto. Accettiamo la licenza. Perfetto, qua abbiamo un tutorial. Andiamo avanti. Schiacciamo su Start. Perfetto, usciamo nel nostro caso dal tutorial, altrimenti se volete potete anche guardarlo. Ecco, per sbloccare tutte quante le funzioni di mixaggio, a differenza del computer che sblocca pressoché tutto, diciamo a livello di mixaggio, dobbiamo abbonarci a Recordbox per iPad. Vale soltanto per iPad l'abbonamento con questi qua che sono i piani. Chiudiamo comunque, nel nostro caso, abbiamo due tracce demo che proviamo subito a riprodurre. Quindi premo Play sulla traccia sinistra e qua, se avessi il volume insomma nelle casse, sto uscendo. Come potete vedere, il segnale funziona. Posso fermare la traccia, screcciare, abbassare i bassi e insomma fare qualsiasi cosa. Possiamo far partire anche l'altra traccia e abbiamo accesso a tutte quante le funzioni della console. Quindi stiamo effettivamente mixando con l'iPad. Ripeto, in alternativa possiamo utilizzare anche il Bluetooth. Basterà andare qua sul logo di Recordbox, sulla sezione Bluetooth. Gli diamo l'ok di utilizzare il Bluetooth e troviamo FLX4. Nel mio caso ho preferito collegare l'iPad ed è la soluzione che vi consiglio anche a voi se avete accesso insomma al cavo. Anche appunto per la questione semplicemente dell'alimentazione dell'iPad che secondo me è molto importante. Nel video di oggi abbiamo visto veramente tante cose. Abbiamo visto come collegare la nostra FLX4 alle casse, con le cuffie, collegarla al computer, al tablet, installare i software sul computer, sul tablet. Insomma abbiamo visto un po' tutto quanto, quello che vi serve per effettivamente avere la console funzionante per iniziare. Ovviamente, ripeto, dopo aver collegato tutto quanto effettivamente bisogna mixare, quindi se volete imparare a mixare andate su 128academy.com trovate 100% Recordbox per imparare i Recordbox come software che è perfetto per questa console e DNA DJ per effettivamente imparare a mixare dalla A alla Z. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero sia stato utile e interessante per chi sta iniziando. Per tutti gli altri ci vediamo prossimamente con nuovissimi altri video anche più complessi e più avanzati. e più avanzati. e più avanzati. Grazie.